E' una nuova Mitsubishi Cold, nata per essere la tua prima Mitsubishi. La prego, apra la porta. Come ti chiami? Leon. Qui ci sono tre ragazzini. Hai conosciuto una donna? Manca la terza. Trovala. Leon, tu devi fare molta attenzione. Leon, sei un sicario? Sì. Quanto costerebbe assumere qualcuno per fare fuori quelle carogne che hanno ucciso mio fratello? Io lavoro da solo, capito? Da solo. Bonnie e Clyde non lavoravano da soli. Chi devo colpire? Chiunque. In prima visione TV, Leon, domani sera 20.30, Italia 1. E smettila di dire ok a tutto, ok? Ok. Spiacenti. Tempo scaduto. Swatch Irony. Le ricette mare pronto. Lunedì, filetti di cerni al forno. Preparazione. Uno, stendere i filetti nella teglia. Due, stendere la tovaglia. Nuovi filetti, mare pronto. Se vuoi un pesce più pregiato, già pulito e già spinato. Mare pronto. Il mare. Come e quando ti pare. 17 anni che vivo su questo pianeta e sperano ancora che mi beva qualsiasi cosa. Mi hanno sovraesposto a miliardi di pacchi, bevute, mega superstar, jingle e a quel tipo di gente che vedi solo in televisione. Questo mi ha portato a due conclusioni. Uno, quando hai sete, non ascoltare altro. Due, guardo troppa TV. L'immagine è zero, la sete è tutto. Ascolta la tua sete, Sprite. Cosa voglio da una lacca? Tenuta perfetta e capelli sani. Lacca Pantene ha la provitamina, protegge e tiene la piega. E così ad ogni cambio ho una tenuta perfetta e capelli sani. Lacca Pantene, per capelli così sani che splendono. Dietor a lei, tanto gusto è la gioia che dà. Lei ti prende e pula scarti, lei si scioglie alle tue voglie, mille gusti da provare, la sua dolcenza ti fa ballare. Dietor a lei, è dolcezza ogni volta che ti va. Solo lei ha quel sapore, mille volte più sincera, un mondo ricco di colore, molto più vero, più leggero. Dietor a lei, ha il sapore della felicità. Dietor a lei. Gli abbracci buoni. Che cosa ti fanno venire in mente? Panna, cacao, due cose buone che insieme creano qualcosa di unico. Beh, quello che sta succedendo a noi. Vuoi dire che? Solo quando panna e cacao si uniscono in un dolce abbraccio, nascono gli abbracci, il piacere unico di due biscotti insieme. Abbracci Molino Bianco. Chi mangia sano, trova la natura. Guardali qui. Tutti con un veicolo commerciale Fiat nuovo di Zeca, eh? Ma non dicevate che voi al vostro vecchio furgone eravate troppo affezionati? E invece, privati, imprenditori, aziende, tutti quanti non hanno potuto resistere. D'altronde, chi vi fa delle offerte così per un vecchio furgone, anche se vale zero? Fiat, ovviamente, che in alternativa vi offre anche un finanziamento mai visto. Operazione Buon Lavoro per i veicoli commerciali Fiat. L'Italia che lavora. Da oggi è in festa. Con la garanzia Nissan di tre anni o centomila chilometri puoi guidare senza problema oltre l'anno duemila. garantisce Nissan. Selezione Oro Barilla. È fatta con un grano raro al mondo che il sole trasforma in oro. Chi lascia la pasta vecchia per la nuova? Ha fatto la prova. Selezione Oro Barilla. Noi andremo tutti insieme a fare una magnifica vacanza sulle montagne per tutta l'estate. Non è fantastico? Mamma, pensi che in montagna ci sarà anche Bilbo? Non credo. Bilbo è un personaggio della fantasia. Levati! Noi l'abbiamo visto. Quell'animale è enorme. Bilbo! 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 Stanno venendo a prenderti tu non capisci? In prima visione tv la tenera storia di Baby Bigfoot. Mercoledì alle 20.30 su Italia 1. Oh no! Oh no!